Ministro, finalmente un ministro che dopo essere nominato ministro si può dire che ha scritto prima qualche libro, contrariamente a delle sue predecessioni. La ringrazio di questo, la cosa che però più mi sta al cuore è stare sui territori, io cammino molto perché ritengo che la cultura sia un valore che debba fuoriuscire dalla ZTL e dai circoli radical chic di alcuni ambienti e debba essere uniformemente distribuita sul territorio. Sono qui per incontrare il Sindaco, per mettermi a disposizione di questa comunità, abbiamo tanti progetti, abbiamo il progetto Identità, i fondi dei grandi progetti, insomma abbiamo tante intenzioni per portare iniziative sui territori. Il momento più felice del mio mandato di ministro è quando in provincia di Salerno, in un piccolo comune, noi abbiamo inaugurato un cinema-teatro fatto con i fondi del ministero. Io ho visto la gioia negli occhi di quei ragazzi che finalmente avevano un cinema e un teatro dove poter legittimamente esercitare le loro attività. Noi siamo qui per fare biblioteche, sale multimediali, cinema, teatro affinché la cultura sia tutta quanta diffusa sul territorio e non resti la prerogativa del regno dei radical chic.